Non è stato uno dei Natali più felici per la città? Assolutamente sì, è stato un Natale particolarmente intenso, devo dire grazie a Dio che il capoluogo non è stato coinvolto da conseguenze nefaste del terremoto, alcuni comuni della provincia in realtà sì, dal punto di vista materiale, dal punto di vista della incomunità fisica ci sono stati soltanto 28 feriti, non gravi, questa è certamente la cosa più importante ma bisogna rimboccarsi le maniche e dare innanzitutto una sistemazione stabile a chi vedrà la propria abitazione dichiarata inagibile, sono oltre 1600 le richieste di intervento per quanto riguarda la protezione civile per verificare il grado di pericolosità degli immobili colpiti dal terremoto quindi dal punto di vista strutturale le conseguenze sono particolarmente gravi, mi auguro che il governo nazionale sia conseguenziale rispetto a quello che ha detto il vice premier Di Maio e il vice premier Salvini in visita a Catania Sì, in realtà la visita a Catania coincide con questa campagna che stiamo portando in giro per la Sicilia delle tre S, scuole sicure in Sicilia in realtà non era assolutamente immaginabile che tutto questo coincidesse con gli eventi di questi giorni eventi sicuramente difficili che stanno mettendo a dura prova la città ma che stanno trovando d'altra parte un'amministrazione attrezzata Catania è forte, il suo sindaco che ha mostrato coraggio in questi mesi saprà affrontare insieme alla sua squadra questo momento così difficile, ne sono certo Assessore, certamente la macchina è già in moto, cosa state facendo? Noi da ieri mattina, da quando l'evento delle 3.20 ha colpito la provincia di Catania con il sindaco ci siamo subito mobilitati, abbiamo attivato la protezione civile siamo stati i primi alle 4 del mattino, il presidio già era pronto per eventuali controlli abbiamo effettuato dei controlli al centro storico, abbiamo potuto constatare che non c'erano problemi di sorta e quindi siamo rimasti poi in attesa del coordinamento regionale e di collaborare come abbiamo fatto infatti in seguito, poi alle 11 abbiamo partecipato insieme al sindaco alla riunione coordinata dal prefetto e dal capo del dipartimento della protezione civile e abbiamo ascoltato soprattutto e poi messo in atto quello che è emerso dalla riunione